Salernitani nel mondo viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero eccoci in un nuovo appuntamento con i salernitani nel mondo qui a radio alfa ben trovati da pino delia oggi siamo a boston negli stati uniti è stato massachusetts ritroviamo ciro pirone il nostro ambasciatore dei vini italiani lì a boston negli stati uniti ciro come stai tutto bene pino ciao a te ciao a tutti i salernitani che ci ascoltano qui bene si avvicina siamo in autunno si avvicina l'inverno quindi periodo freddo però periodo ottimo per le vendite del vino italiano infatti fai parte della dell'accademia italiana sommelier voglio ricordare che insomma sei stato nominato ambasciatore dei vini italiani a boston dall'accademia appunto sommelier 20 anni circa che vivi a boston con tutta la famiglia figli insomma faccio un po il quadro della situazione vero 20 anni sì sì sono 20 anni sì allora in realtà ho compiuto 20 anni proprio il 29 ottobre qualche giorno fa quindi sì ho fatto 20 anni due decadi quindi tantissimo tempo e sì qui ho due bambini mia moglie che qui diciamo vicino boston e da 12 anni circa mi occupo lavoro nel mondo del vino prima di quello ho studiato a salerno quando vivo ancora a salerno tutto dall'alberghiero di salerno quindi fatto una carriera diciamo nel mondo del dell'ospitalità nell'hotellerie ristoranti e poi ripeto da 12 anni mi sono si è tradotto tutto questa grande passione per il vino italiano è giusto una nota di appunto non sono certificato ambasciatore dell'associazione italiana sommelier ma bensì dal dalla dalla vinitaly quindi la vinitaly wine academy che è un'organizzazione che fa capo alla vinitaly di verona sì sì infatti infatti ricordo che lavori per una importante società che fornisce vini in molte città degli stati uniti ecco dicevi il periodo buono per i vini italiani vini italiani che sono fuori almeno per il momento dall'applicazione dei dazi quelli stabiliti dagli stati uniti quindi al momento tutto procede come di consueto con appunto con il mercato del vino italiano negli stati uniti sì fortunatamente come dicevi te i dazi non hanno toccato ancora il vino italiano speriamo che non tocchino e questo momento importante un po' perché il periodo diciamo delle festività porta grandissime vendite un po' perché comunque un po' più in generale il vino italiano è molto apprezzato perché ci sono tante persone che viaggiano in Italia comunque sono appassionati della cultura del folklore di tutto quello che ha a che fare con l'Italia e quindi i dazi praticamente saranno al momento un vantaggio per il vino italiano che già in gran crescita è comunque tanto apprezzato quindi speriamo che le cose rimangano così va infatti tra le prime cose che noi abbiamo appreso che era il prosecco era tenuto fuori già prima dell'applicazione dei dazi appunto da questi da queste sovrattasse diciamo così senti una domanda così per rendere un po' l'idea agli amici che ci ascoltano una buona bottiglia di vino negli stati uniti un prosecco quanto costa quanto viene venduto così al dettaglio lì da voi e boston negli stati uniti in generale beh allora mediamente il prosecco siccome è un vino molto volumetrico qui è visto come un accomorili quindi un vino di quelli che si trova un po' dappertutto in grandi quantità mediamente lo trovi sugli scaffali tra i 10 e i 15 dollari poi se parliamo del prosecco valdobbiatene quindi la categoria di ocg allora lì si comincia a parlare più tra i 15 e i 20 dollari però è tutto variabile in base alla tipologia del vino perché una cosa è dire prosecco una cosa è dire barolo una cosa è dire taurasi e via dicendo dove i prezzi variano proprio in base alla rarità del prodotto alla tipologia e anche al nome del produttore che ha una sua importanza cioè molto forte ma quindi 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 varia varia tanto ecco in vista del natale ci sarà un incremento di questo di queste vendite di prosecco di spumanti e tutto il resto sì diciamo che sicuramente i vini spumanti vanno fortissimo e certamente per quanto riguarda l'italia il prosecco ha un successo incredibile e anche perché è riconosciuto come un vino che può essere bevuto in tutte le occasioni non soltanto un vino bevuto in momenti speciali come lo champagne e anche perché il prezzo lo permette ma al di là di quello e durante il periodo invernale i vini rossi vanno fortissimo i vini rossi che hanno struttura carattere un po più forte un po più alcolici quindi sicuramente per quanto riguarda l'italia dal nord al sud sicuramente barolo amarone brunello taurasi grandi vini rossi del sud che sono un po più potenti e più fruttati quindi quindi ci sarà da divertirsi ma ecco ciro io ti faccio sempre questa domanda ma perché man mano che ci sentiamo poi voglio anche capire tu naturalmente promuovi anche i vini campani per un motivo anche affettuoso quelli salernitani ecco qualche vino salernitano che si sta facendo strada da quelle parti negli stati uniti e guarda salernitani sicuramente sono aziende aziende piccoline però aziende che producono qualità a parte aziende storiche quali montevetrano marisa cuomo lì dalla costiera che sono fatte riconoscere nel tempo sono contento e faccio gli auguri a un caro amico che si chiama paolo verrone che è un'azienda lì nel ad agropoli quindi presente nel cilento che proprio recentemente ho scoperto che finalmente riuscì ad essere importato anche lui qui e non lo specifico a boston quindi naturalmente gli faccio auguri fa ottimi vini e spero che abbia grande successo noi come horizon beverage rappresentiamo due aziende campane non necessariamente salernitare ma comunque al dia di quello hanno stanno avendo un ottimo successo anche quelle in scala più ridotta rispetto ai vini semmai toscani o piemontesi però quando i vini si fanno assaggiare si presentano si fa capire quella che è la differenza quella che è la qualità intrinseca che può essere del fiano piuttosto che dell'aglianico o del greco e il cliente poi alla fine apprezza quindi diciamo alla fine bisogna fare tanto lavoro di quel genere lì non si può sperare che il consumatore medio americano conosca il greco quanto conosce il pino grigio certo certo infatti benissimo ciro è sempre un piacere parlare con te poi questo è un argomento che insomma ci piace particolarmente ti ringrazio ti ringrazio per essere stato con noi ci risentiremo poi tra qualche mese ti auguro davvero buone affari e sempre una buona promozione del nostro vino di qualità appunto il vino italiano a presto grazie di cuore un saluto a te saluto a tutti i salernitani buone festività buon natale e certamente sempre forza italia forza salerno e certo salutiamo dunque giro pirone da boston stati uniti con i salernitani nel mondo l'appuntamento qui a radio alfa torna tra una settimana alla stessa ora salernitani nel mondo viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero ciao 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 Grazie a tutti.